Ose riegui me donate le so, sarà il fondo. La che c'è una larga pedagogia del genere, activistas, strazistas e sindicalistas. La che trageron la seguna repubblica, la che usaron la guerra civiltà e combativano il tornealismo. Ci soldi che si asociano per a 10, non si sumano e si multiplico. Sin embargo, sabemos che è un po' sufficiente, queda molto per fare e noi stiamo luchando. Basta di violenza nazista, cotidiane e indescrivizzate. E' urgente che la nostra comunicazione, nulla meno, vivas, lo cheremo, sia una realtà. Siamo le donne e siamo diversi, e se lo tocan a una, lo tocan a todas. Domeniciare che essere le donne sia la principale causa della pobreza e che si non sia giù per la diversità. Che ci sono i dottili, sui, 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 sui. Siamo anche le pensioni che ci sono abbiamo vantato. E qui ci sono una libertà generosa, non si vediamo la banca, che è un pensiero, la comunità educativa e tutto il movimento dell'immigra, ci sono i nostri diretti a una educazione pubblica, 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 autunistica e dell'immigra. E questo momento è chiaro che ha giocato un' maggioranza per il cambio. Questa è stata la victoria di Davide contro Golià. Si è terminato, signoriasi. España è farta di che le roben, è farta di che voi le roben e la democracia pide passo, signoriasi. La democracia pide passo.